Le proprietà delle potenze con la stessa base si possono applicare soltanto alla moltiplicazione, alla divisione e alla potenza di potenza. Quindi 2 alla terza per 2 alla seconda è uguale a 2 alla quinta perché facciamo la somma degli esponenti perché c'è per 2 alla terza diviso 2 alla seconda è uguale a 2 soltanto perché si deve fare la differenza degli esponenti 3 meno 2 fa 1, l'1 non si scrive e quindi fa 2 e basta. Se invece ho potenza 2 alla terza elevato alla seconda questa si chiama potenza di potenza è uguale a una potenza che ha per base la stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti cioè 2 per 3 fa 6. Queste proprietà valgono soltanto per la moltiplicazione, la divisione e la potenza di potenza. ok?